Buongiorno e benvenuti al Tg5. Per l'Europa oggi è il giorno del via ufficiale al fondo salva stati. Lo strumento scelto dall'Eurogruppo è scattato questa mattina, agli arresti sono inviato Matteo Berti. È il momento delle previsioni del tempo, il Tg5 torna alle 18 e poi alle 20. Grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti. Grazie a tutti.